Conturbante Viaggi e Turismo è nata per farti sognare in giro per il mondo e darti la possibilità di soddisfare ogni tua esigenza. Non si placano le polemiche a cava dei tirreni per le evidenti difficoltà che si riscontrano quotidianamente presso le tensostrutture di piazzale Gramsci, base operativa nella città metelliana delle unità speciali di continuità assistenziali. A denunciare di servizi che molto spesso vengono segnalati all'USCA di via Gramsci, anche il consigliere comunale di Forza Italia Pasquale Senatore. In effetti noi assistiamo da giorni ai video in cui ci viene detto che tutto va bene e poi questi riassuntini vengono completati con la mitica frase, così possiamo dire, Forza Cava. I problemi però vanno toccati con mano, vanno affrontati, vanno risolti. Noi abbiamo persone, i cittadini caresi che telefonano all'ASL e spesso non ricevono risposte. E i mail che vengono inviati all'ASL e spesso non vengono risposte da parte dei cittadini. Persone positive che aspettano il tampone da giorni, se non addirittura da settimane a casa e qua qualcuno si permette di dire che tutto va bene. Allora la soluzione diventa per molti cittadini che vedono non venire presso la propria abitazione i medici dell'USCA positivi, mettersi in macchina, recarsi verso il parchetto di Piazza Gramsci, aspettare per ore la fila in macchina per ricevere il tampone e salvo sentirsi dire sono finiti e devono ritornare qualche giorno dopo. Il tutto perché tra Cava e Costiera Amalfitana vengono eseguiti solo 700 tamponi con un'utenza di 100 mila abitanti, è veramente assurdo e nella realtà ce ne vorrebbero almeno il doppio. Per non parlare poi delle condizioni pediosi in cui questi operatori, infermieri e medici lavorano presso l'USCA, intende che andavano bene forse per un periodo breve, ma non adesso anche con la stagione piovosa che si avvicina. Allora mi domando queste problematiche, quando verranno risolte? Per non parlare ancora degli infermieri che per l'assistenza domiciliare sono in un numero bassissimo rispetto all'utenza, parlo dell'assistenza domiciliare per persone anziane o per persone affette da patologie oncologiche e questo servirebbe a ridurre, come dire, se si potenziasse la medicina territoriale, si ridurrebbe e quindi si ridurrebbero gli intasamenti degli ospedali. In tutto ciò la cosa più grave che posso dire, che posso affermare, è la totale assenza del direttore del distretto sanitario 63 e le favolette giornaliere del primo cittadino in cui ci viene detto che tutto va bene e che quindi forza Cava possiamo andare avanti. Ma veramente stiamo scherzando? Ma veramente Cava vuole questo? E sulle lacune organizzative che quotidianamente si registrano all'USCA sono intervenuti anche i consiglieri comunali di Siamo Cavesi, Marcello Muroro, Raffaele Giordano e Vincenzo Passa. Nonostante le garanzie dell'amministrazione che nei giorni scorsi aveva rassicurato i cittadini comunicando che sarebbero arrivati altri due medici, il sistema è lento e non dà risposte adeguati i cittadini. Sarebbe utile, si leggere una nota, aumentare il numero dei tamponi giornalieri da effettuarsi in più punti della città. Dal canto suo il sindaco Vincenzo Servalli ha fatto sapere che il comune attiverà una procedura rapida per l'acquisto di alcune migliaia di tamponi che saranno destinati all'USCA per integrare la dotazione disponibile. Un'altra problematica che attanaglia la sanità territoriale cavese è la carenza di ambulanze. Spesso accade che qualche malcapitato è costretto ad attendere ore e ore con il servizio del 118 out perché le ambulanze sono impegnate in interventi nell'agro o in attesa davanti ai pronto soccorso in attesa di un posto. E questo è il grido d'allarme lanciato dagli operatori sanitari che non riescono più a gestire il servizio di emergenza complice agli aumenti dei contagi da Covid-19. Grazie. 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 Grazie.